Estraclima, attiva in Marche Toscana nel risparmio energetico, ha stretto un'intesa con il Monte dei Paschi di Siena per la cessione dei crediti connessi agli interventi con i superbonus al 110%. La fibra ottica arriva nel cuore di Montemurlo. Estracom, la società di telecomunicazione di Estra, ha aperto il cantiere per portare il cablaggio fino alla rocca del comune in provincia di Prado. Al via giugno il cantiere di Centri Ariti Gas, società di distribuzione del gruppo Estra, per portare il metano a gioco l'infrazione collinare del comune di Scandici ai confini con Firenze. Attenzione alle truffe telefoniche per contratti luce e gas, nuove segnalazioni di clienti Estra Energie su comportamenti scorretti di altri operatori che chiamano da numeri non riferibili ad agenti Estra.